no che cazzo è? no regalo questa non la taglio non posso tagliare ah il video è andato bene non mi hanno bocciato dai vai Flavie mannala bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo episodio di la scuola fa schifo incredibilmente scritto in maniera ironica perché la gente nei commenti non capisce e poi la cosa bella è che mi ha arrivato con un commento l'altro giorno con ma la scuola con la cura è scritto opposta ecco lui non si era accorto che anche schifo era scritto male però ora capite perché ho scelto questo titolo è più colloquiale diciamo lo scorso episodio è andato veramente benissimo ragazzi mi è arrivata una cosa come 100 e passa commenti e tra tutti i commenti che ho letto diciamo che ci sono stati alcuni che hanno spiccato di più anche alla mia curiosità al mio senso morale al mio senso civico è di un ragazzo che stimo profondamente perché con un grande cuore mi ha scritto vede io mi scoperei a sangue proprio la preside perché c'ha due tette che so quanto la mia testa io non so come sia possibile perché nel senso e allora senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo a parlare di quello che sarà l'argomento odierno oggi signori si parla di quelle cose che io adoro fare non solo a scuola le figure di merda si perché diciamo che ne ho fatte nella mia vita sono una figura di merda in persona io però anche a scuola diciamo che non disdegno infatti oggi vi parlerò di alcune mie figure di merda una in particolare me la ricordo ricordatevele anche voi perché è pazzesca pazzesca e ne vado fiero di questa cosa ecco intanto vi ricordo anche di scrivermi qui sotto nei commenti alcune vostre figure di merda in modo che ne parliamo nel prossimo episodio come abbiamo fatto all'inizio di questo per quanto riguarda insomma lo scorso video ma adesso possiamo cominciare dicendo raccontando insomma due figure di merda in particolare che mi ricordo della mia scuola allora una la prima risale allo scorso anno in scienze ricordo che diciamo fu più che altro una cabbizzata finita male che poi che cazzo vuol dire in italiano che cosa ho detto in pratica avevo fatto un computer in scienze comunque mi ero sforzato e mi ero preparato molto a casa il voto era 3 voi direte no no era proprio 3 cioè 3 quello presente esatto ecco in pratica stavo lì con un mio amico e il colpo di genio dato che io volevo essere il meglio di tutti ma proprio penso di aver fatto una cosa che rimane nella storia ma non sono stato l'unico dai ditemi che non sono stato l'unico a fare questa cosa voi direte cosa? no fatemi spiegare troppo frettolosi praticamente ho pensato di correggere il voto per quelli che erano i miei criteri anche morali del resto da 3 a 8 ma questo solo perché mi sembrava più giusto per il mio impegno no? tu cosa ne pensi genoveffa? ah tu non pensi è bello ecco il discorso è che purtroppo la prof se ne accorta voi direte vabbè grazie al... è quello bravissimi però non era scontato perché diciamo che la mia prof dell'anno scorso di scienza era un po' se può di? se può di dai era l'incoglionita e quindi praticamente ho detto vabbè dai che non se ne accorgerà mai siamo troppi in classe quindi facciamolo ma diciamo che non è andata esattamente come avevo previsto dai ce la faccio che cara come l'ho inculata tenga prof questo è il compito e dunque vediamo allora marconi 8 federico? si? potrei sapere perché il tuo voto è magicamente diventato da 3 a 8? ma prof non so dirle in realtà cioè io non ho fatto assolutamente nulla ragazzi chi è che ha modificato il voto di federico? si ecco diciamo che mi aveva un po' scandalizzato quell'urlo di conseguenza ho rivelato che purtroppo era stato io quindi però è stata una figura di merda colossale penso però poi non c'è stata nessuna conseguenza quindi in parte vabbè il 3 è proprio sottottenuto ma adesso signori siamo arrivati al momento più importante del video quello che tutti stavano aspettando la miglior figura di merda di federico in una scuola allora si tratta di una materia a me molto ostile la matematica praticamente la prof di matematica che l'anno scorso poi non a caso mi ha messo il debito perché mi adorava e mi adorava tantissimo ero pure scazzo ma fate pinta di niente voi assecondatemi praticamente aveva assegnato degli esercizi e se ci penso ancora rito magari al momento della correzione degli esercizi chi è che può aver chiamato la lavagna secondo voi? esatto marconi? si? hai fatto i compiti? certo prof le pare bene allora fammi rivedere eh no prof praticamente c'è un problema non pensi male purtroppo li ho fatti ma ho dimenticato il quaderno a casa però non si preoccupi magari adesso chiamo mio padre e me lo faccio portare o comunque gli faccio dire domani ah e li hai fatti tutti sul quaderno? eh si prof tu quali ero fatti ma strano perché erano tutti sul libro vedi? vagli a posto hai preso due eh no è entrata così veramente ragazzi e se ci penso per questo ho ancora rito questa penso sia stata la figura di merda che in assoluto mi ha fatto anche più ridere eh a me personalmente in classe poi il debito l'ho preso quindi attenti perché le figlie di merda sono belle fino a un certo punto comunque anche con questo secondo episodio siamo arrivati al termine io spero che vi sia piaciuto ovviamente vi invito a lasciare un pollicione in su lasciatemi un commento qui sotto ovviamente con una vostra figura di merda perché sono veramente curioso fidatevi che le leggerò tutte come poi ho fatto l'ultima volta e magari vi risponderò anche qui in descrizione come al solito trovate tutti i miei social facebook, instagram, telegram soprattutto ragazzi entrate che mi fanno un bordello nel canale telegram che poi non è vero perché parlo solo io ma comunque per il momento è tutto noi ci becchiamo nei prossimi video bella ragazze